Ciao amici di YouTube, ben ritrovati in Morlu Total Gaming. Oggi giocheremo a Castlevania Lords of Shadow 2. Gioco che personalmente aspetto da una vita, quale grandissimo affezionato della saga. Mi è giunta voce che la stampa non è rimasta particolarmente convinta da quest'ultimo capitolo. Però sti cazzi, io lo provo comunque. Guarda che cinematiche! Ah, è epico, è divertente! Eeeh... Eeeh? I sorci? Todd! Ma mi è rotto il cazzo, oggi si gioca a South Park. Quindi optiamo per South Park. Oggi sono in compagna di Todd. Che per l'occasione, visto che mi piace il gioco, sarò in modalità buona. Infatti vedete, ho pure gli occhiali. Non è vero, li levo sotto. Nuova partita. No, lo spray tan del New Jersey. Guarda, a occhio e croce, secondo me, visto che c'è una L lì, hai lasciato il pad acceso. Sono davvero un coglione. A sto punto giochiamo col pad. Ma io lo faccio pelato, ascolta. Questa è la felpa di Hansi Morlun. Chi è sta cosa? Ha voglia alla Gorbaciov. No, direi fango. No, è un sogno che c'è vero. Ci siamo trasferiti, è trasloco questo. Tra l'altro non si può fare la femmina. Non esistono le bambine su South Park. La narrazione è identica al cartone. Allora, guarda, io direi già che i poligoni qui... Ma i poligoni di cosa? Ma vaffanculo i poligoni, guarda che spettacolo. È fatto benissimo. È 2D fatto molto bene. Posso... Posso prendere a cazzo? Sì. Caga! Caga! Sì. No, ho fallito. Che cazzo è sbagliato? Ho premuto, ma ne ero pronta, cacà. Scusa, questo è come se... Vai, pigia, 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 pigia. Questo è come se ti chieda l'improvviso di cacà. No, fantastico. Guarda che particelle, te. Vaffanculo. Ma come scende ste scate? Esci fatti qualche amico. Ah, hai fatto tipo social network. Con questa sicuramente mi farò sempre amico. E' durato pelato 5 minuti. Prima o poi comunque il potenziamento tetano ti sarebbe toccato. Ah. Guarda la mappa. No. È grossissima. Quello è il... Quello è il cazzo di Canada. Il mio obiettivo principale è andare in Canada immediatamente. Ma è lontanissimo, ne faremo mai. Salva Butters. Ma ah, ti fai amici, ma questo è tipo Facebook. È tipo tradetto, come social network. È pieno di chicche, proprio. C'è una cura per il dettaglio. Io so un po' le parti, eh. Non parlare non fa parte del gioco. Ma ha dato il pizzetto malvagio. Morro total gaming. Questo è un bambino. Vecchio. E' la principessa Kenny, ovviamente. Oddio, bellissima stai in azione. Perché comunque per fare in quel di fatto così bene, così interattivo... Sono riusciti a valorizzare molto bene, secondo me. Anche il campo di profondità è... Secondo me è ottimo. Era il modo migliore e forse anche l'unico modo per far un gioco del genere. Ale, vai con la classe. No, ho visto l'ultimo. Ascolta, io forse per me giocherei mago. Io non ci metto bocca perché... Tu chiaramente faresti per il guerriero. Subito, subito. Se te la senti... Allora, se non altro per vedere che poteri c'ha l'ebreo. Io so curioso anch'io, comunque, sì. Bastone dell'ebreo. Ma c'è il bastone da vecchio. I guanti del Ku Klux Klan. Cioè, ma anche se non sei amante della saga. Comunque è troppo curioso, troppo stiloso, troppo curato. Rompi il culo a Klan. Quindi sì, chiaramente. Sistema turni. Come se gioca col pad? Ma non è malissimo. Ti dico, è intuitivo. Ah, ok. Quindi c'è il sync. Devi sincronizzare il tasto con l'attacco. No, l'ho beccato un piede. Fionda di Davide. Scaglia la prima pietra contro qualsiasi nemico. Ma devo girare la levetta. No! Madonna. No, ma sei forte, però. Ma che cazzo? 40. Ma non è facile. Vittoria. Un punto esperienza. Metti mi piace se pensi che sia la più bella del real. Vedi, sviluppano una sorta di dialoghi paralleli. Sai che mi ricorda? Batman, quando c'era Joker che gli lasciava i messaggi in segreteria. I messaggi in segreteria. Batman, facci piano. O fallo per me. O al diavolo. Che cosa mi importa? Fa quello che vuoi. Ok, testa gente. L'assalto, l'assalto, l'assalto. Vai. Io ancora non ho capito come cazzo si fa a parare comunque. Dove appare sto bottone? No, è sotto. Quando si illumina sotto. Ah, ok. Adesso spenzi io. Faccia del cazzo. Hai visto? Oh! Gli ebrei. Gli ebrei è fortissime. Gli ebrei è forti. Ma quanti sono questi stronzi? No, ma vedo che hanno preso comunque tutti i tratti migliori dei JRPG storici. No, però è abbastanza chiaro, è immediato alla fine, dai. Io mi ricordo, ancora uno dei vecchissimi giochi, dei più vecchi del South Park. Io mi ricordo che ce n'era uno per Nintendo 64, South Park. No, non lo so se era per il 64. Tu sei un vecchio, mezzo ai bambini, tra l'altro, eh. Amico sbloccato. Quindi sei unito. Sono salito di livello. Abilità. Judeo Jitsu. Tu pensa se sceglievo il mago? Ma che ne sai? Questo è talmente assurdo che secondo me vale la pena di giocattelo più volte. Comunque io potenzo alla fienda di Davide, perché fino adesso fu orchissima. Eh, serissima, cioè non... Procione, no! The kid! Ah! Ah, guarda tu! Tuono nero, pipa da crack, bambola di Antonio Banderas. No, ascolta, lo devo fare. Rosita. Io lavoro tutta la notte per fare le fette biscottate che sono più spesse e non si spezzano quando ci spalmi la marmellata. Cacamo! Ancora? Oh, è cacca! 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 Ma sei una merda! Cacca! 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 No. Sì! Ho faticato tantissimo, peggio che se dovevo cacare! Fottiti novellino, le cose andavano alla grande finché non sei arrivato tu, te la farò pagare, lo giuro! Non ci credo, hai tutti i contenuti scaricabili, porca di quella puttana, quella stranza di mia madre me ne ha fatto prendere uno solo! Questo è metagame, ma l'innissima potenza! Elfie soprattutto! Comunque è uno dei modi più intelligenti per, fa virgolette, reinventare o comunque da nuova vita a sto genere, eh! Martello della giustizia! Guarda che pozza di sangue! Senti comunque anche la colonna sonora, i temi, quanto so epici! Io so concentratissimo, non pensavo di dover me concentrare così tanto, eh! Oddio, dai, cazzo, è il momento di usare la crocchetta de merda, dai! Stronzo! Ma ci senti? Diventa amico mio! Giulio Augizio, è il momento, è il momento, premio ripetutamente A! Oddio! No! Infame! Vedi? Che prima abbiamo fatto bene, ammazza prima sto pezzo di merda! È il droido! Comunque le animazioni sono curatissime, mi piacciono da morire! No, sì, valeva la pena solo per vedere sta cosa! Vedi benefici? Ah, queste chi sono le passive? Chiaro! Vandalismo! Fin dai tempi di Zelda che spacchi i vasi! Devi andare in chiesa! Barba Klingon! Quasi quasi! Quanto cazzo è ebreo così? Beh, è semplificata sta... Bostio! Shadow of the Cyclopsus, oltre l'attore di azione a base di occhi cavati, solo per Okama Against Fear! Eh, io direi che è il momento! Ehi! Caca! 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 No ragazzi! No c'è un problema! Non c'è il riflesso sullo specchio! Vai vai, gioca gioca! Quanto sei tonto! Adesso chiaramente andiamo in chiesa! E beh, ovviamente! A me dispiace perché vorrei fisicamente far vedere tutto, però è un problema serio! A me mi frega un cazzo vorrei solo giocarci... Beh certo, tu non ci devi fare i video dei gameplay, poi da te è certo, non ti frega un cazzo! So io che devo parlare... Io sono ebreo! T'ha una chiesa cristiana! Potrebbe esserci qualche evento particolare, che ne so, magari mi cacciano! Ma il tuo mino è in gu... Davide, ma che cazzo domino hai fatto? I caricamenti sono a sega! Sono un po' lunghetti, sì! Sono proprio una sega! Vabbè dai, c'è andata a prendere un caffè! È il caso di chiuderla qua, perché ci abbiamo da fare tante missioni, cioè soprattutto ci abbiamo da girare parecchio e non vorrei perdere, c'è qualche perla! Bene ragazzi, anche oggi l'appuntamento con Morlu Total Gaming si è concluso! E finalmente abbiamo provato un gioco carino! Ben realizzato, divertente e stracolmo di chicche! Talmente bello che quasi quasi ci facciamo un altro video! Cazzo sì! Per quello che abbiamo provato ci sentiamo di consigliarvelo, anche se non siete fan della saga! Comunque vi strapperà qualche gran risata! Se invece siete degli affezionati di South Park! È un must assoluto! Ah, e poi saremo di nuovo pronti per altri 7-8 giochi di merda! Vabbè, ma scusate, un po' scappa anche Ripper of Souls! Vi ringrazio e vi saluto anche Todd! Ciao! Vedi però quanto è carina sta cosa, che comunque citano e fanno la parodia, però non è troppo... Boh, ma vaffanculo non so più... Non sei buono, Todd, da queste cose! Non sei buono, non sei buono! Non sei buono perché non c'è il multitasking!